Musica Collega Stellato, come mai non si è presentato in aula? Che sei scritto sulla... Leggi, leggi Menuccio e Componi, dignità politica zero Andate a casa Bastava presentarsi ed esporre in maniera civile le proprie argomentazioni Invece nulla, assenti? Quando ci saranno le condizioni ne parleremo tutti quanti Non ci si presenta in consiglio? E oggi è una scelta politica Cosa? Di non presentarsi? Il Consiglio rappresenta i cittadini? Io ne rappresento assai Assai proprio Che parecchi ne prendi per i fondelli politicamente parlando Politicamente, politicamente, nulla di personale Stellato, nulla di personale Tu poi rischi sempre che qualcuno... Cosa rischi? No, 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 stiamo parlando tra persone civili Fammi parlare Prego Un microfono parla sempre Prego Rischi che qualcuno poi dopo alle tue provocazioni Qualche giorno gli dice E si assume le responsabilità di quello che fa Cosa? Se tu provochi sempre, prima o poi... No, 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 no Quindi ti sei assentato? Sono Sei assente? Però sei presente qui Certo, è una scelta politica E quindi così a passare... Assente per una scelta politica Quindi assente davanti alla città? No, no, davanti alla città no Perché il Consiglio Comunale rappresenta la città Una scelta politica Quando avrete i numeri per fare quello che... Quindi tu sei di maggioranza? No Io sono... Di maggioranza o di opposizione? No, io sono a favore del... Maggioranza o opposizione? Collevo, siccome siamo persone serie... Ma sei maggioranza o opposizione? Gli slogan che... Si capisce Ma la maggioranza... No, sei maggioranza o opposizione? La maggioranza... Sono tardivo nel comprendere La maggioranza, la maggioranza Si perfeziona con atti in Consiglio Comunale Ma se... No, ci si dichiara per legge Ci si dichiara la propria posizione Maggioranza o opposizione? No, no, per legge Solo nel gruppo misto Non ci si dichiara Tu non si sa che cosa sei Se sei maggioranza o opposizione? No, questo... Colpo al cerchio o un colpo alla botta? Ma vedi che sei... Eh, 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 eh Ma se ti devo sempre le cose... Se vuoi fare lo show Come stesso degli angeli Tu devi fare politica, non lo show Non devi fare lo show Devi fare politica, non lo show Come stesso degli angeli Tu vuoi fare lo show No, 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 rispondi Vedi, queste cose qua sono da show Io non me le metto queste magliette qua No, 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 io me le... Ti sei messo i gilet gialli Ti sei messo i giubbotti gialli No, queste cose qua No, questa è la verità In quadro, in quadro No, 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 no Vi stiamo sputtanando Vergognatevi No, 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 no Grazie.